Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense, riflettori accesi sulla siccità. Oggi si è riunito l'osservatorio, i dati naturalmente non sono confortanti, le piogge dei giorni scorsi non sono bastate e si prevede purtroppo una situazione di peggioramento per i prossimi giorni, ma insomma faremo un po' il punto. Poi naturalmente la pandemia, numeri ancora piuttosto stabili, il virus continua a circolare, a ferrare nella provincia estense, ancora tre decessi per complicanze da Covid. Intanto a Copparo l'ospedale di comunità accoglie i primi pazienti. Poi torneremo a parlare di PNRR, Cento si impegna sull'impatto di genere, vedremo di che cosa si tratta, naturalmente la musica, la musica che sta coinvolgendo la città oramai da diversi giorni, con voci importanti, artisti importanti. Torneremo a parlare, è stata praticamente chiusa la tre giorni di musica in piazza Ariostea e poi il calcio e altre notizie ancora. Però dicevamo l'emergenza siccità in primo piano che interessa tutta la pianura padana, una siccità che resta davvero molto grave, quanto ribadito dall'osservatorio sugli utilizzi idrici che si è riunito online questa mattina. L'osservatorio è utile ma sterile, lo strumento si dimostra un'anatra zoppa, ha dichiarato Meuccio Bersagli, segretario generale dell'autorità di Baccino di Po, che chiede alle istituzioni un'accelerazione sul tema della raccolta e dell'utilizzo dell'acqua. Vediamo. Resta ancora molto grave la siccità che interessa la pianura padana. I livelli del grande fiume rimangono ben al di sotto del minimo per poter allontanare lo spettro del danno ambientale nel delta e di quello legato alle coltivazioni agricole nel resto del distretto. È l'esito dell'osservatorio sugli utilizzi idrici che si è riunito online in queste ore. Non sono servite infatti le piogge cadute negli ultimi giorni anche sotto forma di fenomeni violenti e grandine. Le temperature ancora in rialzo dei prossimi giorni indicano uno scenario destinato a non mutare a breve. Pur rilevando la ripresa delle quote dei grandi laghi alpini, restano le incognite legate all'avanzata del cuneo salino nell'area del delta e la potenziale minaccia non ancora scongiurata della possibile intrusione delle acque salmastre, pericolo costante di danno all'habitat e alla biodiversità, ma anche minaccia costante al comparto idropotabile vista la presenza operativa a pochi chilometri dell'impianto che serve tuttora oltre 750.000 persone nelle due province di Ferrara e Rovigo. L'osservatorio è utile ma sterile. Lo strumento si dimostra un'anatra zoppa, ha sottolineato Meuccio Berselli, segretario generale dell'autorità distrettuale del fiume Po, giunto al termine del proprio mandato e che ha guidato per l'ultima volta la riunione. In queste condizioni climatiche, sempre più frequenti negli ultimi dieci anni e difficilmente contrastabili negli effetti spesso prolungati, serve un'accelerazione maggiore e più concreta attenzione da parte delle istituzioni sul tema della disponibilità, raccolta e utilizzo dell'acqua, ha dichiarato Berselli. E tra pochi giorni, dal 14 luglio, Meuccio Berselli sarà il nuovo direttore generale di AIPO, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, lente facente capo alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Alla posto di Berselli, quindi come segretario generale dell'autorità distrettuale di Bacino, dovrebbe arrivare il ferrarese Alessandro Bratti, già ex direttore generale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Sentiamo però Meuccio Berselli che ha fatto un po' il bilancio del proprio mandato ai nostri microfoni alcune settimane fa in occasione di un convegno che si è tenuto al Castello di Mesola, avente come tema la siccità e il cuneo salino. Sentiamo. Lascio l'autorità di Bacino molto a malincuore perché l'autorità di Bacino ho cercato di rivoluzionarla e di portarla sul territorio e quindi dalla stanza dei bottoni chiusa in un ente che ha sede a Parma alla disponibilità del segretario a confrontarsi e a prendere anche delle sberle dal territorio proprio per ascoltare e per cercare di rilanciare sul fiume delle iniziative molto importanti. Abbiamo ottenuto dei risultati credo molto importanti perché se la reputazione del fiume e la reputazione dell'autorità di Bacino è aumentata in questi anni è grazie a una comunicazione capillare delle attività che abbiamo messo in campo e non certo per meriti del segretario. Aipo. Vado altrettanto volentieri presso l'Agenzia Interregionale del Fiume Po in cui ci sono tre temi fondamentali. La ciclovia vento quindi la mobilità dolce, la navigazione che deve essere una navigazione turistica ma anche una navigazione commerciale perché dobbiamo dare un impulso al fiume almeno fino a Cremone e Piacenza dobbiamo navigare e collegare Marghera e Ravenna quindi portare dei container e toglierli dalla strada. Il PNRR è in capo ad Aipo e quindi mi occuperò dei 357 milioni sul progetto di rinaturazione e in più secondo me un processo, un percorso nuovo rivolto alle comunità in cui Aipo vada a spiegare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che fa sul territorio proprio per rendere i cittadini più consapevoli del ruolo che abbiamo. In tutto questo stiamo parlando di progetti in un momento in cui il fiume è veramente in secca. Qualcuno potrebbe dire insomma è paradossale questa cosa, parlare di navigazione con il fiume in secca. Ottima osservazione, assolutamente ragione. Io credo che non possiamo fare progetti e ogni tre anni avere una crisi idrica. Il cambiamento climatico è acclarato, dobbiamo accelerare l'adattamento al cambiamento climatico. L'adattamento significa creare invasi, avere i reflui dei depuratori che possono essere più performanti e rilasciare più acqua, evitare le perdite dalle reti, una coltura, un'agricoltura meno idroesigente ed infine un'irrigazione più attenta al cambiamento climatico. Tutte queste cose vanno messe tutte insieme ed è l'unico modo per avere acqua stoccata nei laghi in inverno e disponibile per il turismo, la navigazione, l'agricoltura ma anche una resilienza migliore. Ora cambiamo argomento. La sanità a Copparo, l'ospedale di comunità, riaperto oggi dopo i lavori e ha già accolto i primi pazienti. L'ospedale di comunità di Copparo torna operativo e accoglie i primi pazienti ricoverati nella rinnovata struttura all'interno della Casa della Salute Terre Fiumi di Copparo a conclusione dei lavori di riqualificazione finanziati dall'azienda USL di Ferrara per un valore complessivo di quasi 500 mila euro. La riapertura effettiva è avvenuta lunedì con il ricovero dei primi due pazienti, uno dal territorio e uno in dimissione dall'ospedale. Il reparto di degenza territoriale prevede la presenza di infermieri e operatori sociosanitari 24 ore su 24 con assistenza medica garantita dai medici di medicina generale e dai medici di continuità assistenziale con il supporto degli specialisti della Casa della Salute. È destinato al ricovero programmato su richiesta del medico di medicina generale dal domicilio di un reparto ospedaliero in dimissione dopo apposita valutazione della centrale di dimissione e continuità assistenziale sui criteri d'ingresso quando non è possibile il ritorno a domicilio per il paziente. Il ricovero a Copparo è in media di 15 giorni fino a un massimo di 21 giorni. Ora la pandemia, il bollettino, tre decessi nel weekend appena trascorso, tre nuovi ricoveri in ospedale per Covid positivo e 430 nuovi contagi. Quanto riportato dall'ultimo bollettino della pandemia a Ferrara nella provincia estense, in regione crescono i ricoveri nei reparti. Vediamo. Il virus continua a circolare anche a Ferrara nella provincia estense. Nell'ultimo bollettino, che riporta i dati degli ultimi tre giorni, nella giornata di domenica 10 luglio, a fronte di 259 guariti, si registrano 430 nuovi contagi da Covid-19 e due nuovi ricoveri in ospedale. A Sant'Anna di Ferrara-Cona sono 41 le persone ricoverate per positività al virus, tra queste anche due in terapia intensiva, quattro donne in ostretricia e quattro neonati in terapia intensiva neonatale. 43 le persone ricoverate negli ospedali in provincia, 29 al delta di Lago Santo e 14 a Santissima Annunziata di 100. Purtroppo Ferrara e la provincia estense piangono ancora tre vittime per complicanze da SARS-CoV-2. Si tratta di due donne di 77-87 anni e di un uomo di 88 anni deceduti tra venerdì e sabato scorso. In Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore si sono registrati 4371 nuovi casi, ma ci sono anche quasi 6.000 guariti. Crescono i nuovi ricoveri nei reparti Covid, 52 in più in 24 ore e anche se leggermente nelle terapie intensive con 3 ricoveri in più in 24 ore, 12 i decessi in regione, donne e uomini di età compresa tra i 73 e i 93 anni. Torniamo a parlare di PNRR con 100, sono già 5 i comuni italiani che hanno aderito alla campagna dati per contare che l'associazione femminista Period Think Tank ha lanciato nel marzo del 2021 per chiedere alle istituzioni locali un impegno concreto a rendere aperti e pubblici i dati necessari alle politiche di parità e per intervenire sui gap di genere. 100 è la prima città di medi e piccole dimensioni che sottoscrive la campagna di Period Think Tank dati per contare che impegnerà il comune centese a raccogliere i dati necessari e fotografare la situazione della popolazione e quindi delle donne nei vari campi, dal lavoro, la famiglia all'istruzione e alla partecipazione alla vita della città. Servono infatti dati disaggregati per genere per definire le politiche di parità e gli investimenti economici finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha nella parità di generazione e fra territori uno dei vincoli ereditati dall'Unione Europea. Consapevoli del fatto che i dati nella società dell'informazione sono il punto di partenza per promuovere politiche efficaci, i 17 consiglieri centesi che hanno accolto con favore l'Urne del giorno e la proposta di Period Think Tank, presentati in aula consigliare il 28 giugno scorso dalla stessa Presidente Giulia Sudano, hanno sottolineato il fatto che in questo momento il nostro Paese, impegnato in uno straordinario processo di cambiamento favorito dalla mole dei fondi del PNRR, non può permettersi di procedere in modo approssimativo nel proporre i progetti, senza contare che sulla parità di genere, dove l'Italia sconta un gap che è la distanza da molti altri Paesi dell'Unione Europea, è obbligata dallo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a promuovere azioni di contrasto al divario di genere, un obiettivo che per essere raggiunto deve mettere insieme azioni che incidano sulle disparità, sia a livello centrale del Governo che a livello periferico delle amministrazioni locali, azioni che vanno misurate in fase progettuale e in fase di rendicontazione dei progetti messi in campo. Un'operazione è questa che va sotto il nome di valutazione di impatto di genere che le amministrazioni locali, in quanto attori principali nella lotta e nell'eliminazione del divario di genere nei diversi ambiti della vita pubblica e privata, dall'accesso alla salute e al mondo del lavoro, passando per la sfera sociale e quella politica, devono imparare a fare. La valutazione dell'impatto di genere è strategia collaudata in molti Paesi dell'Unione, in Italia stenta a decollare. Di qui la campagna promossa da Peer Think Tank, associazione femminista di promozione sociale, con finalità esplosivamente civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che partendo dagli Open Data produce ricerca, policy e report per favorire il raggiungimento dell'equità di genere. Dal 28 giugno scorso, alle quattro città, di cui tre, metropolitane, Bologna, Milano, Palermo, più Ravenna, che hanno aderito a dati per contare, si aggiunge dunque la città di Cento, con un'iniziativa che ne fa una città all'avanguardia nelle politiche di inclusione e l'adozione degli Open Data. Cambiamo decisamente argomento. Collanina d'oro rubata a un gruppo di ragazze durante un concerto in piazza Riostea. È stato per questo arrestato un giovane accusato del reato di furto aggravato. Gli agenti della squadra mobile hanno ricostruito l'accaduto. Il giovane si è avvicinato, avvicinava alle vittime con la chiara intenzione di strappargli dal collo la catenina d'oro dopo averle strattonate. Il giovane risultava già aggravato da vari precedenti per reati di furto e di rapina e anche in materia di sostanze stupefacenti. E adesso passiamo alla Summer Vibes, all'evento di piazza Riostea che ieri ha chiuso i tre giorni di festival con Irama e San Giovanni. Secondo gli organizzatori 23.000 le persone presenti in queste tre giornate, ma sentiamo com'è andata l'ultima serata. Serata di musica in una domenica estiva al Summer Vibes in piazza Riostea dove si sono esibiti Irama e San Giovanni tra gli altri. Nonostante l'affluenza non fosse paragonabile alla serata dell'8 luglio con Blanco e Madame, le 5.000 persone a corse domenica hanno cantato e ballato dalle 19, dove si sono susseguiti prima la rapper Big Mama, poi il duo Panetti e Nasca, successivamente San Giovanni e Irama dove a mezzanotte ha chiuso la serata sulle note di La Genesi del Tuo Colore. Big Mama, Panetti e Nasca sono artisti ai primi live, ma che vantano numerose visualizzazioni sui social, su Spotify e featuring importanti. Nota dolente della serata, una ragazza che non si è sentita bene durante ovunque sarai di Rama, la canzone di Sanremo 2022. Il cantante si è subito fermato e ha fatto sì che i soccorsi notassero la ragazza, permettendo che tutto andasse per il meglio e che il live si potesse concludere senza ulteriori complicanze. Nel complesso, secondo gli organizzatori, sarebbero state circa 23.000, 15.000 al primo giorno, 3.000 al secondo e 5.000 al primo. Le presenze in Piazza Riostea, da venerdì 8 luglio a domenica 10 luglio, per la prima edizione del Ferrara Summer Vibes, che ha visto sul palco l'alternanza di 13 artisti. La serata ha chiuso il festival di tre giorni di Piazza Riostea. Ora il Ferrara Summer Festival torna in Piazza Trento Trieste per il concerto di Tommaso Paradiso, atteso mercoledì 13 luglio. Ed è stato annullato I segreti del mare. Lo spettacolo è stato annullato I segreti in programma per il 12 luglio in Piazza Trento Trieste a Ferrara nell'ambito del Summer Festival. Protagonisti della serata sarebbero dovuti essere Piero Angela e Alberto Luca Recchi. Domenica l'appuntamento però è stato annullato. Non avremmo mai voluto inviare questa notizia, ma purtroppo siamo stati costretti ad annullare l'evento per le condizioni di salute di Piero Angela. Scrivono gli organizzatori non è possibile portare in scena lo spettacolo a causa della impossibilità al trasferimento di Piero Angela. Aggiungono dalla produzione i biglietti verranno rimborsati. E lo scorso venerdì 8 luglio a Barcellona i presidenti di Emilia Romagna e Catalogna, quindi Stefano Bonaccini e Aragonese di Garzia, hanno fermato un'intesa che porta le rispettive regioni a collaborare in settori cruciali per la vita delle persone, la coesione sociale, le prospettive di una nuova crescita. Sentiamo le dichiarazioni del presidente Bonaccini direttamente appunto dal capitale catalana. Negli ultimi due mesi un accordo con la novella Chitain francese, uno con il Gran Ducato del Lussemburgo e l'ultimo recente con la statua della Pennsylvania, la prima volta che una regione italiana firma un accordo di collaborazione istituzionale con uno stato federale americano. Oggi qui a Barcellona, questa mattina, un accordo con la Catalogna, la regione prima in Spagna per PIL, per export, per turismo. Ringrazio il presidente Aragonese e il suo governo perché abbiamo messo le basi per una collaborazione nel campo dell'agroalimentare, del turismo, delle manifatture, ma soprattutto nel campo del digitale perché a Barcellona c'è un supercomputing tra i primi al mondo per potenza di calcolo e siccome tra pochi mesi a Bologna, al Tecnopolo, arriverà il più potente supercomputer di calcolo europeo tra i primi cinque al mondo, un accordo di collaborazione tra le nostre università, i centri di ricerca e le nostre regioni farà sì che i due hub principali a livello europeo sul digitale possano collaborare e soprattutto dare una mano a quella transizione digitale che è la premessa per quella ecologica. Emergency Day alla via, la dodicesima edizione da martedì 12 a sabato 16 luglio al centro sociale Il Parco di Via Canapa con il patrocinio del Comune di Ferrara. Gli appuntamenti sono in programma a partire dalle 18.30 con incontri pubblici dedicati al diritto alla salute, la crisi energetica ambientale, i traumi della guerra, il ricordo del fondatore Anima di Emergency Ginostrada. Nel pomeriggio poi appuntamento tra le 17.30 e le 18 con lo spazio Bimbi, laboratorio giochi. Dalle 19.30 sempre per i bambini giochiamo in pace, uno spazio in cui svolgere giochi e leggere libri insieme. Ogni sera come consuetudine della manifestazione, saliranno sul palco diverse band con musica da ballare. E ora il calcio, il calcio femminile, debutò Amaro ieri sera per la nazionale femminile di calcio agli europei. 5-1 la sconfitta contro la Francia. Azzurre che ora si giocheranno il loro cammino nelle prossime due sfide. Sicuramente le ragazze dell'allenatrice Bertolini saranno a Ferrara, allo stadio Mazza il prossimo 6 settembre. Le azzurre saranno sul tappeto verde dell'impianto cittadino per sfidare la Romania per l'ultima gara di qualificazione al Mondiale 2023 in programma dal 20 luglio al 20 agosto del prossimo anno in Australia e in Nuova Zelanda. Attualmente l'Italia guida il girone G con 21 punti, seguita dalla Svizzera a due lunghezze e proprio la Romania 5 punti. L'incontro quindi sarà decisivo per assicurarsi il pass diretto per la manifestazione. Chiudiamo qua allora il nostro TV giornale. Prima di chiudere vi ricordo i programmi della serata a partire dalla festa della legalità. Questa sera uno speciale proprio alle ore 20 non da appunto suterestense per ricordare l'iniziativa che ha preso il via con il conferimento del premio cittadinanza responsabile 2022 assegnato ai volontari della protezione civile. Poi alle 20 e 25 la rubrica Avis Perle per parlare della convenzione firmata tra la Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e l'Avis Provinciale di Ferrara con il patrocinio del Comune e dell'Avis Nazionale. Poi alle 21 e 10 appuntamento con la rubrica per gli amanti dell'arte, diamanti in pinacoteca, gli appuntamenti della Pinacoteca Nazionale di Ferrara Gallerie Estensi e poi alle 21 e 30 Italia canta il programma di intrattenimento con i video, le novità, le canzoni più belle interpretate dalle grandi voci delle orchestre italiane. Allora, chiudiamo qua il nostro TV giornale. Per tutte le informazioni e le novità, naturalmente l'invito è a visitare il nostro sito telestense.it, pagina Facebook e il nostro canale YouTube. Grazie di essere stati con noi, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.